Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione e anche una punta di orgoglio per il grande riconoscimento che è stato fatto alla Via Appia Regina Viarum con l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale. Si è trattato di un lavoro corale che ha visto coinvolti associazioni, cittadini, ovviamente il Ministero della Cultura e il Ministero degli Esteri. Per noi questo riconoscimento è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché d'ora in poi il Ministero della Cultura sarà impegnato in opere di valorizzazione, di tutela e di conservazione di questa eccellenza mondiale, perché tale è stata riconosciuta la Via Appia Regina Viarum.